Ti chiedo cosa hai provato, vedendo quella palla per passare la linea, una grandissima azione, un grandissimo gesto tecnico, un gol che vuole dire tanto, che cosa hai provato, che emozioni hai provato? Sì, è stato un gol importante per me e per tutta la squadra, volevamo iniziare bene questo col scudetto perché ce la siamo guadagnata e sudata, quindi partire con una vittoria contro una squadra come la Fiorentina era molto importante per noi. Tu rientravi oggi dall'infortunio, ricordo le lacrime, nell'ultima gara, sono passati dalle lacrime e l'esplosione di gioia di oggi, con l'esultanza poi di, ne parlavamo prima con il mister, di mister Piovani, di tutto il gruppo, che sensazioni base a questo? Sì, non è stato un periodo facile, un mese facile per me, però rientrare con questo gol importante è stato molto importante per me e devo dire grazie a tutte le compagnie, al mister che mi hanno supportato in questo periodo, non semplice. Senti, Piazza Suolo come va? Tra virgolette, poi oggi hai fatto anche un favore alla Juventus, no? Sì, Piazza Suolo adesso vogliamo puntare in alto perché ci siamo, come ho detto prima, guadagnati a questo col scudetto, quindi vogliamo dimostrare che siamo all'altezza delle grandi squadre. Ti faccio l'ultimissima domanda, tenendo un po' il discorso che mi ha fatto con il mister, il termine famiglia, il termine noi. Quanto è importante e dove potete arrivare? La col scudetto è appena iniziata, l'appetito viene mangiando, essere un po' quell'outsider, guasta festa anche con squadre che sulla carta sembrano appagliano, favorite, ma poi il campo a volte dice che è solo carta e ci sono 90 minuti da giocare per i civichi più forti. Sì, diciamo che non abbiamo un obiettivo fisso, vogliamo semplicemente dare fastidio a tutte le squadre che ci sono in questo col scudetto, dalla Roma fino ad arrivare all'Inter, giocarci quanto più possibile tutte le partite e come abbiamo fatto oggi provare a portare sempre a casa i tre punti.